Non è vero che quando pensiamo alle vacanze normalmente ci può venire in mente spiagge, mare o magari la montagna, no? Ma se sei moldavo c'è solo una destinazione, la Moldova. Non importa quanti posti meravigliosi ci siano nel mondo, noi moldavi abbiamo questo richiamo irresistibile che ci porta a casa. Ma attenzione, non è così semplice perché per arrivarci bisogna fare dei sacrifici. Due giorni macchina all'andata e due giorni macchina a ritorno. Poi c'è chi preferisce andare dritto senza sosta, ma quello è un altro discorso. Per me fermarsi la notte in hotel a metà strada è la soluzione migliore, soprattutto da quando in Romania abbiamo scoperto una struttura fantastica che è davvero da consigliare per chi fa questo viaggio interminabile. Ora se ci penso è stato il momento più bello di tutto il viaggio. Perché non appena arriviamo passano due giorni e cosa succede? Vacanze rovinate dalla febbre per cinque giorni. Cinque su dieci. E tutti i programmi che avevamo fatto annullati perché al posto di goderci un bel drink con gli amici abbiamo passato le giornate con termometri e tachipirina. E sai come va a finire ogni volta? Quando torniamo in Italia stremati diciamo sempre la stessa cosa. Questo è l'ultimo viaggio in macchina così lungo, l'anno prossimo si va in aereo, punto. Ma quando arriva il momento di ripartire indovina cosa prendiamo? Ovviamente la macchina perché alla fine siamo moldavi.